Mi fai fare un annuncio ai cittadini? Sono le 10, tutto va bene? Tutto il sito del Campidoglio, sul sito del mio dipartimento verrà pubblicata la circolare di cui abbiamo parlato insieme a Tiberio. Ti ringrazio, auguro buone feste, buon lavoro e buone cose. E soprattutto la stampa non è amica, la stampa fa la stampa. Arrivederci. Grazie allora a Laura Marsiglio, grazie a Mirko Bonocore, a Valentina. A te Tiberio. Sempre a Valentina. Certo. E Marcello Mici che sta per arrivare. Ciao ciao. Ciao. Montadello è comunista. Salame socialista. Prosciutto democristiano. La coppa liberale. Le salsicce repubblicane. Prosciutto notte fascista. Il programma è stato offerto da Enterprise Solution.